Il Comune di Benevento mette il piede sull'acceleratore per combattere l'evasione e i risultati ci sono. Sono stati accertati circa 700 soggetti passivi, sono stati emessi circa 300 avvisi di accertamento per omessa dichiarazioni sull'ICI e l'IMU rispetto alle aree fabbricabili per oltre un milione di tributo evaso. Ma ascoltiamo per gli altri dettagli l'assessore al bilancio Maria Carmela Serluca. E' stato riportato il dato che il Comune di Benevento avesse incassato 2.500 euro dalla lotta all'evasione. In realtà questo dato si riferisce alle primialità che è stata attribuita al Comune di Benevento per effetto delle segnalazioni qualificate inoltrate alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate. Il Comune di Benevento infatti fa parte dei pochi comuni virtuosi, solo il 5% degli 8.000 presenti in Italia, uno degli 11 comuni sui 550 della regione Campania e unico della provincia di Benevento che ha aderito appunto all'invito dello Stato di essere da supporto all'attività di contrasto all'evasione fiscale dello Stato. Sono stati infatti accertati circa 700 soggetti passivi, sono stati emessi circa 300 avvisi di accertamento per omessa dichiarazioni ISCI e IMU sulle aree fabbricabili per oltre un milione di euro di tributo evaso. Sono state accertate diverse attività industriali e commerciali, si sono fatte le verifiche anche su alcuni enti pubblici. Molta attenzione viene posta alle procedure concorsuali perché una grossa fetta dell'attività di recupero viene gestita proprio attraverso gli strumenti deflattivi e il contenzioso stesso. Quindi l'attività del Comune di Benevento si intensificherà sicuramente a seguito del trasferimento del servizio alla nuova società concessionaria dell'Atari e dei tributi minori per cui l'ufficio potrà maggiormente implementare l'attività di contrasto all'evasione a fine di garantire all'ente l'intera riscossione del gettito dovuto.